Il 28 e 29 dicembre scorso si è tenuta la 14esima edizione del presepe vivente di San Severino di Centola, organizzato da Maria Teresa Scianni, Piera Cammarano e la comunità di San Severino con il patrocinio del comune di Centola Palinuro. Nato 27 anni fa da un'idea di Maria Teresa Scianni, la manifestazione ha visto la partecipazione anche delle comunità di Palinuro e Centola per un totale di circa 200 persone tra attori e comparse locali. Siamo con Maria Teresa Scianni, regista del presepe vivente del borgo di San Severino e le chiediamo quali sono le sue impressioni in merito a questo evento. Non è facile parlare del presepe vivente e delle impressioni perché non è di impressione che si può parlare ma di ciò che si è vissuto dentro, quello che il presepe puntualmente ogni anno dona a chi lo vive e nel caso specifico, nel mio caso, io lo vivo da non il 28 e il 29 dicembre, data in cui si realizza, ma lo vivo dalla prima serata, dalla prima sera in cui ci incontriamo con tutta la gente di San Severino. Quindi è un percorso e quindi è un vivere, un crescere insieme alla comunità, un crescere in sintonia, andare verso questo Gesù che nasce. Quindi secondo lei qual è il punto forte di questo presepe? Perché si differenzia dagli altri che si tangono sul territorio? La diversità, che poi è bellezza comunque sempre, sta nel fatto che è la gente di San Severino che ridà vita al borgo che gli è appartenuto. Ma poi la cosa importante è che si indrecciano due momenti, si indreccia la storia, il Vangelo, quindi quello che è l'annuncio della nascita del figlio di Dio con la storia di questa terra. Anche quest'anno è stato dato un tema alla manifestazione, ce ne può parlare? In questo mondo in cui tutto è fatto di connessione, è fatto di incontro virtuale con la perdita dell'umanità, siamo andati a riscoprire l'umanità che comunque portiamo dentro, che noi non abbiamo perso ma che abbiamo solo nascosto. O meglio, che il mondo con le sue purtroppo brutture ha sepolto. Quest'anno il presepe vivente ha riscosso un grande successo, cosa si augura lei per il futuro di questa manifestazione? Mi auguro che non cambi, perché nel momento in cui cambia diventa un'altra cosa, non è più il presepe vivente di San Severino. Il presepe vivente di San Severino ha riscosso un grande successo perché in questi anni ha parlato al cuore della gente. Allora il presepe vivente di San Severino ancora urla al mondo di questa realtà. siamo un popolo contadino con delle radici che affondano in quello che è il valore più alto dell'esistenza, l'umanità, essere umani capaci di condividere il dolore e anche la gioia.